Il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha inviato al Consiglio delle Autonomie Locali una proposta per l'impugnazione alla Corte Costituzionale contro l'articolo 1,838 legge di bilancio 2018 circa l'eseguità del contributo di 317 milioni per l'anno 2018 da ripartire tra tutte le province italiane le quali hanno già subito nel corso degli anni passati importanti decurtazioni. La scelta di invocare l'intervento del Cal scaturisce dal fatto che esso, spiega Caruso, è una sede di concertazione permanente tra i livelli di governo locali e regionali e ha l'obiettivo di assicurare il concorso delle autonomie locali alle scelte della Regione compresa quella di sollevare in via diretta questioni di costituzionalità. Il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha quindi ritenuto di proporre il quesito che riveste la massima importanza per gli attuali assetti finanziari delle amministrazioni provinciali abruzzesi. Lo stato dei trasferimenti, infatti, incide in termini essenziali sull'equilibrio di bilancio delle province perché l'entità del contributo riconosciuto a ciascun ente non consente di redigere un bilancio coerente con gli obiettivi relativi alle funzioni fondamentali conferite dalla legge 56 del 2014 ovvero garantire l'esercizio di funzioni relativi ai servizi di competenza in particolare quelli afferenti alla manutenzione della rete stradale e degli edifici scolastici. Il presidente Angelo Caruso ricorda che in virtù del principio di sussidiarietà le difficoltà operative delle province possono arrecare danni anche alle regioni che legittimano quest'ultime a denunciare la legge statale anche per le violazioni delle competenze degli enti locali.